E' un regalino da parte di YouTube che ci ha messo nove mesi ad arrivare Dopo circa un meme finalmente è arrivato il momento che stavate aspettando tutti Pro sonare Qui dovrebbero esserci proprio le quality memes Quindi scusatemi se in questo episodio non guardo i vostri link Sapete ho questo piccolissimo appello per le persone che stanno dietro a YouTube Smettetela di usare YouTube Ma che cos'è? Per favore non caccatemi male Aspettate ragazzi sto incazzi Io cercherò di guardare tutte quelle che trovo Perché l'altra volta non stavate scherzando Ora invece che l'avete fatto apposta per entrare nel video Oh mio dio Poco io Già ve lo dico ragazzi perché l'ho visto due mesi fa Ma non capisco perché casco Siate più credi Comunque non perdiamo più tempo e vediamo questo video Bart colpisce video con una sedia Vediamo che cosa avete trovato di così tanto fascista su internet Cut edit Cuore povero a me La finca di un bicchiere Mai fatto fa Vi diverte? Eh? Eh? Vi diverte? Non è divertente Quindi in un certo senso ho paura Ma dall'altra parte ho paura No non ti preoccupare tanto alla fine si offendono lo stesso Tanto alla fine fanno il stesso Turn around Lavandino indemoniato Il problema è quando Oddio che capelli che ho Amo E già solo per questa cosa voglio un minuto di silenzio da parte di tutti i ragazzi che mi seguono Ma perché lo fai? Artistico scientifico linguistico Scientistico linguistico Sono un fallimento No No Basta Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto date una zampata su mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Volevi Vole Guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Volevi